delle donne per 5 volte e vedremo tu sei tifosa di qualche corridore pro? ovvio di chi? di questa squadra di questa squadra Rossella Racco sorella Dante, sorella di Peruzio sorella di Racco lei vince in primis la pianessa dell'atronometro individuale stacanovista della bicicletta ha iniziato la stagione col ciclo cross prima andata di appartenenza alla categoria di Uniones per vincere il titolo con delle non fida in quanto possiamo andarci? poi vedremo solo strada o antipista? strada nel quadretto mettiamoci pure la signora mamma d'arte Monica Loverso un applauso e 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 un applauso io cercavo il signor Rivo ricco bellissimo grazie a tutti